Ciao! Noi! 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 La Issa Noire è promossa in Serie B1, grande soddisfazione alla palestra della scuola Peretti. Una Issa che ha superato Alessandria anche nell'ultima partita per 3 a 2. Alcune immagini dei festeggiamenti, potete seguirci anche su www.sdnews.it. Un saluto da Marco Ciclo. Un saluto da Marco Ciclo. Un saluto da Marco Ciclo. Un saluto da Marco Ciclo.